Awee amici non di Pessangle d'Italia! Allegria! Ben ritrovati! Amici e soprattutto non amici, perché ce ne abbiamo tanti di non amici, ma gli amici ne sono ancora 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 di più. Allora ragazzi, in attesa del mega aggiornamento di sta minchia, anzi di sta ciofeca di Mamma Konami di domani, facciamo un video oggi. Grazie per oltre quasi 2000 visualizzazioni della live di lunedì, non fa niente che poi me l'hanno bloccata a monetizzazione, perché sicuramente la pubblicità che è andata, la pubblicità, sicuramente quella telefonata fatta col center di Win3 ci sarà stato un blocco, sicuramente. Vabbè non fa niente, non è che non è stata monetizzata, ma è andata un po' in blocco e chi se ne fotte lo sapete benissimo. Quindi oggi facciamo qualche spacchettamento, vedi anche hanno dato Arsenal, Juventus, Bayern Monaco, il Barcellona facendo un'altra volta, ah se la Juventus, il Bayern Monaco, quindi manca Barcellona, che cazzo ho io? Barcellona? E Manchester United che le daranno, penso domani, domani, vabbè, un po' di coupon, un po' di agenti, ci sappiamo tutto. Ok, intanto il pool con le agenti, vedete, 100.000 GP fatti senza giocare, ho giocato solo le sim, ragazzi, fidatevi, non ho giocato per niente. L'ultima partita, vedete, sim, 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 quindi l'ultima fatta è stata con voi in live, alle 18.30 a te e l'ho vinta con Johnny Cava. Allora, che lo saluto e che mi ha scritto anche l'altro giorno, mi ha facendovi complimenti. Come al solito, saluti i miei fedelissimi dagli admin, Angelo Bove, Marco Arcani, Demis Boscherini, detto Dede Cripto, Tommy 80, Max Gona, saluto l'ellinio 88, PES player, o player PES, non mi ricordo chi cazzo è, Gabriele Babini. Detto questo, andiamo avanti, facciamo questo prima ragazzi, fare un video veloce, domani non so se registro, non lo so, perché domani è il mio compleanno, il mio complex, quindi sarà molto difficile, perché comunque lavorerò, dormirò, al massimo ragazzi, mentre mangio pranzo, intanto devo cucinare, lancio l'aggiornamento e poi farò un video di presentazione, vediamo. E venerdì doveva arrivare il tecnico per la fibra? non la fibra, la fibra, vabbè non mi ricordo, la super fibra, quindi al massimo volevo provare per una live dopo aver lasciato tutto, penso venerdì mattina o venerdì pomeriggio sicuramente. Detto questo, troppe chiacche, andiamo avanti, agenti, quindi questo qua ricordatevi che con i gp, tanto abbiamo fatto quasi 30 giri, no, 10 giri, abbiamo consumato 200.000 gp, scade entro stasera, idem questo, entro stasera, domani metteranno un nuovo, quindi abbiamo 300 monete per domani, perfetto, qua abbiamo 3 giri da fare, dai, vediamo chi dà. Ah, sto provando il cavolo che carica il joypad del cambio da playstation, come mi ha consegnato lì, vediamo se già ci sarà un miglioramento, stavano in offerta i 4 cavi, uno di ogni lunghezza, da Amazon, pubblicità, vai, c'è anche 8 euro le ho pagate, sto provando quello più lungo, che sarà 3 metri, 2, 3 metri penso, sì, ma non arriva neanche al cazzo della mia poltroncina, andiamo avanti, un cazzo da cacadatta, perfetto, chissà domani cosa metteranno, come giocatori, risalto, penso, le van dos, penso, non lo so, Iconic, ragazzi, Iconic, Iconic, mi fa parlare veramente, chi cazzo è? Pizze, a me è piaciuto questo da una scossa da 31 anni, collante, sa che è uno dei pochi collanti mediani che ho per il momento, Tebrocco, fase difensiva, un cazzo, collante della Bacchile da Mammt, vabbè dai, andiamo avanti, vado sto al portiere, quanti anni ha? 30 a quasi, via, no, lo dovevo convertire, cazzo ho fatto, andiamo qui, poi andiamo a fare quattro giri con il GP, e per questa settimana abbiamo finito di girare con il GP, da domani riprendiamo a fare il GP, Italia, palla neve ragazzi, se, di Ago Falco, ma c'è brutta la fine ha fatto cosa, quanti anni? 30, mamma, è Benevento, oh cazzo, e chi lo sapeva? la padura Benevento, mamma sta piccola, dai, 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 e non ci tanto sono regalati, andate a fare in cù, andate a fare in cù, andiamo a prendere quel portiere, la prima, ma sta maschio qua, via, quanto abbiamo un bel po' da svinchiare, e voi, andiamo così, andiamo così, andiamo così, vediamoci la vaffa Mock Club, vediamo, diciamo che sta varan, non mi ricordo mai che cazzo sono i calciatori che ho pescato, Sergio Roberto, così, e chi cazzo è l'altro, allora, griffman, cutinio, facciamo così prima, un attimo, un attimo, night moment please, facciamo Kante, Lukaku qui, mettiamo purtroppo cutinio, beh, allora, voi, no, ragazzi avete ragione, che cazzo combina, non lo so neanche io, allora, dovrebbe essere uno dei picciucci, sotto, vediamo, era così brutto che lo volevo convertire, ma non lo trovo più, questo qua, qua, madonna mi, fratello K, beh se ti avrei a fare in culo veloce, vediamo di trovare qualcuno da poter pompare, qua va Varane, lui che può fare il mediano, ok, TS, va bene lui, 89, Messi, ok, ecco perché gioca a magliette Barcellona, così hanno giocatori un po' di VGG più alto, livelli più alti, mettendo le magliette speciali, adesso uscio il Barcellona perché ne ho tre di loro, poi più in là vedremo, infatti sto giocando con l'ultimo Joypad, quello gold, ma tuttora funziona, palla nera, palla nera per forte, che ho detto io, madonna mia che palla questa ogni anno me lo dà Cristo Santo, diop, mamma mia, ok, è un avvenimento tattico, dai, adesso faremo una cosa ragazzi, ho in mente una cosa, giusto così eh, un ricordo dell'anno, dell'anno scorso, dell'anno scorso sì, e poi qualche mese fa è, infatti, aggiornare qua, chi altro mi ha scritto, va bene, madonna mia, qui palla nera non ne vuole dare, però, che bella tre quartisti, ho tre palliniere, 30 anni, ma quest'altro, 33 nel Siviglia, ma è del francese, vabbè, non lo so, altri due giri, mi fa tempo ragazzo, ho leggendo i messaggi, per il torneo, allora, è un altro pallauro, è un altro pallauro, raffiglia, ma che cazzo di raffiglia, si è spesso di un altro rida, pallauro, moreno, moreno morelli, guardi, sti c'è la notizia, ah ah, 86, 87, che cazzo è questo? questo, questo per poco non è tutto verde, mancino, ma, beh, ultimo giro, tante palliniere, ed è che non me le vuoi danno in questo punto, che è da, che hava da mamma, conami di merda, sempre conami di merda, ragazzi, tutto spagna, ecco, con un'altra pallauro, Valencia, Madonna, Gomez, Menza, Adria, non è affare in gura, andiamo avanti, basta, e anche per oggi, gli spacchettamenti sono finiti, abbiamo girato pure abbastanza, troppo per i gusti miei, quindi, andiamo qui, allora, Cannes, devo portare, Gigetto Donnarumma, che abbiamo come portieri, difensiva, e ti pareva, difensiva, ti pareva, e Donnarumma, un cazzo, Oblak, o Courtois, la Courtois, Courtois, le Amade, ci portiamo Courtois a questo punto, difensiva, tiè, lusso, 960, ammazza che sforzo, avaccio tu cazzo, Turchia, ah, beh, mo si, mo si, perfetto, e vieni titolare, poi, chi ci stiamo portando, Varan, eh, ma Varan deve crescere ancora, porca troia, è un sviluppo, incontrista, sviluppo Brasile, frontale extra, sviluppo inglese, allora, che abbiamo qua, se non io voglio far crescere Coulibaly, ragazzi, Coulibaly una da bestie, allora, a parte che lì, deve crescere, incontrista, quindi, ma Coulibaly cosa sarebbe invece? cazzo, e all'ottie, eh, ok, lo so che il Gacchielin deve crescere, però, ragazzi, Coulibaly, Coulibaly, frontale extra, sviluppo, sviluppo, lo sviluppo, lo sviluppo, lo diamo a lui, cazzo, 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 tutti incontristi, li hanno fatti, sviluppo, e sviluppo, Van Dyck, scommetto, non mi dico che mi vuoi affrontare, è un frontale extra, neanche uno, collante, ma, perché a me questo piace, e lo voglio fare crash, ti è, 2488, perfetto, perché vedete, veloce, buona fase difensiva, perfetto, anche, Manchester City, prima o poi lo metteranno if, poi, non so che per gli dati tempo, però parecchi ragazzi, questi, non li conoscono un cazzo ancora, allora, vediamo alternante, sarà penso le tre, più le tre, ti è, oh, offensivo, però, lo sapete che mi dava un cazzo, coglione, che non sono altro io, coglione, ieri che cos'è, scozzese, e tu, ok, ho sbagliato a dare quello, vediamo qua quanto li da, a questo, miliotto, un cazzo fra lui, perfetto, Konami, perfetto, sei proprio veramente, vabbè, Sergio Bet, penso che questo non va, va ieri, offensivo, oh, ma che cazzo, raga, ma non danno un cazzo quest'anno, raga, non danno niente, non danno niente, mediano collante, eh, mediano collante, sarà sviluppo, azzo, questo, Fernandinho, incontrist, Pjanic, vaffanculo, Matic, collante, eh, no, perché questa fase difensiva è più divizia ragazzi, fidati, poi, qualche taglio al centro abbiamo, e da, alla prolifica, mannaggia la morta davanti, ma che cazzo, ma che cazzo me ne faccio di queste ali pro lì, che queste, è regista creativo, vabbè, fotte sic, poi, lukaku, una faccia di dare, si è, dagli un botto di punti, mille e crescere, mocca la muerta da tante, mocca la muerta da tante, conami, ma quando si bastarda si, fulcro di gioco, chi cazzo è qua, fulcro di gioco, nessuno, nessuno, fidati ti, sono un po' già scattato con attaccanti, opportunista, opportunista, chi è, la paduna, niente, perfetto, schifezza, sono schifezza oggi ragazzi, voglio vedere poi quando gli da questo, eh, almeno qua, a questo punto io do a lui, chi è, almeno sono di livello, e quella è alla prolifica, eh, alla prolifica, ok, grisma, regista creativo, giusto, taglia al centro, però, chi è, mille e nuova, ok, abilità, niente, posizione, non vale a pe, ok, quindi, facciamo così, oh, qualche cosa, eh, adesso, adesso facciamo una cosa ragazzi, guardate, vediamo qui, abbiamo come secondo regalatore, flick, e flock, e questo qua, invece, mi sono altri coglioni flick, gli metto il mio, la buoname di cunane ragazzi, vaffangula conale, ok, lo sistemiamo, 39, perfetto, uscio qua, tu qua, tu qua, tu qua, voglio vedere una cosa, un attimo, ok, tu qua, tu qua, tu qua, tu così, tu là, tu là, tu sali, tu sali, tu sali, così, così, ok, tu diventi così, poi facciamo, difensivo, lui, difensivo, lui, contro piede, lui, contro piede, lui, però, se questo fa così, 87, 88, velocità, meglio lui, ok, lo so, però, con cavolo, ragazzi, fidatevi di me, fidatevi, fidatevi, da domani, spacchettiamo ancora, 90, tacci, tu e di tu nonno, solo in cazzo, no, che ho fatto, che testa di cazzo, scusate, vabbè, tanto stanno facendo le loro sim, troppe chiacchiere, sfida di oggi, le challenge contro con, tanto ne sto facendo, e ce ne andiamo a fare, purtroppo, Konami, tu purtroppo, le competizioni online, non le vuoi mettere, va bene così Konami, guarda, le ho vinte tutte, siamo carenti, e ce ne andiamo a fare questa, ciò ma fa, almeno la prima del giorno, la voglio fare così, quindi, l'ho sbagliato, in effetti, 60, 60, lui, 23, la muerte, mi sono sbagliato, sono sbagliato, quindi, facciamo così, 47, Griezmann, 32, e che può fare, il trequartista, ok, lo vi smiego, e Donnarumma, lo mettiamo a posto di Courtois, vabbè, andiamo dai, basta, poca e carente di competizioni Konami, ragazzi, spero che domani, non so, si inventi qualcosa, la FIFA maniera, boh, che è stato fatto, il tappo è stato fatto, con la FIFA, un'altra, un'altra, mandata, invece, questo, la FIFA maniera, la FIFA, la FIFA, un altro invito utilizzate sta cazzo da mascherine soprattutto i ragazzi raga mettete la cazzo di mascherine mi ha chiamato una maggior età fa peppino conte e mi ha detto di cercare di portare divulgare questa diciamo questa notizia questa alla fedez chiara ferragni maniera battito questa cazzo da mascherino ma vedare code code conte chiama kid dite ragazzi divulgate essendo voi dei grandi social man e social girl ma perché tu pensi che se uno dice un figlio mette la mascherina il figlio dice sì sì papà mamma non ti preoccupare come a chiudere la porta tra parentesi traduco come chiude la porta di casa la mascherina se la toglie cioè la mascherina sarà live se la metti nella tasca arrivederci e grazie al della chiacchia avete capito perché io quest'anno non sto giocando ragazzi l'avete capito no vabbè io faccio fatica io faccio fatica a credere a tutto ciò uno deve pure portare contenuti registrare che cazzo porta che cazzo porta siamo fuori casa non trova avversari che cazzo porta devo andare a giocare per forza classificate che non voglio fare e fuori casa me lo trovo a pasquariello 79 napoli po forza raga avellino cioè campani volevo dire come vedete una sconfitta in mezzo a 4 vittorio e vabbè lui gioca con gasperini e te pare noi iniziamo con fisce tranquilli ragazzi tranquilli lo sapete tranquilli guarda ogni volta sistemare e non resistevo mai mettiamo i tre centrali belli vicini vicini messi mica tutti a palacio ragazzi che cazzo è successo iniziamo così perché sentiamo si mettiamo così iniziamo così ragazzi iniziamo così ok perfetto poi mettiamo in attacco one two e ci metti iniesta questa volta un po fin della rigorista lui destro sinistro lui spalla lui corta lui lunga lui capitano bandic difesa e madonna mia quando metto sempre ragazzi aspettiamo no difesa mettiamo bugio sergi roberto contropiede beckham 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 e qui se beckham madonna e lui allentiamo un po anche lui e ci andiamo a divertire le maglie le maglie cazzo c'ho io qua nera e lui ok andiamo così dai buon partito buona partita a te e buona partita a me non ho visto anche la sua votazione complimenti a nico va bene va bene ragazzi va bene ragazzi va bene va bene va chi non l'ha fatto ancora si iscrivesse prima di tutto al gruppo pens anche l'italia facebook lo sapete siamo ormai una grandissima famiglia iscrivetevi al mio cazzo di canale iscrivetevi qua la campanellina mettete mi piace non mi piace basta che lo fate cioè 2000 visualizzazioni tra totale mi piace non mi piace neanche 100 fate un po voi anche se visto sul cazzo entrate non mi piace va bene lo stesso questo fa ovviamente mod gasperino io oggi ho finchia questo sto giocando con il cavo vediamo se un micro micro o stanti e gioiosi infatti sono arrivati in massa ok perfetto come dice un qualche centesimo non più di ritardo vedremo se è vera sta cosa ma presumo che siano sole pavole secondo me tanto giocatteranno senza caricare il cazzo del cavo come non è gol ma lo fa rivedere come non è gol ma fammi capire vabbè 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 se prevedì fatelo caro come no io ho fatto fallo ma io ho fatto fallo coppia vabbè 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 va bene fa uno dei tuoi lanci stato让 decade bravo così che vuoi sì No, voragine, la voragine, ho aperto la voragine Però, tutto sommato È vero che c'ho Vabbè, non mi fa le... No, ragazzi, Buonucci, no Da Buon Juventino, no Contro Buonucci, no, ragazzi Non l'accesso da sconfitto, veramente Se ci dovesse stare No Questa fa il cross, questa fa il cross Madonna Madonna, ragazzi Contro Buonucci, no, ragazzi Non l'accesso Madonna, mi ragazzi Madonna, che schifo Che schifo Messi, non devi stare là Messi Vabbè Ma Ronaldo, madonna Come l'hanno sminchiato Quello là, nel frattempo, sta ancora a terra Il fallo che ha subito No, vabbè, ragazzi Non mi ha fischiato il rigore, ragazzi Ma come cazzo sei falloso, fratello mio Carissimo mio Come chinchia sei falloso Lo sai che fino a domani Spero a Cristo Conami non ti fissi La punizione, è vero Sei leggermentino fallosino, ragazzo mio Sei leggermentino fallosino Che cosa ha fischiato? Che cosa Madonna, ragazzo Madonna, mia, raga Madonna, mia, raga Madonna, mia, raga Madonna, da lui di noi Lo sapevo Testa di cazzo Quanto sei prevedibile Nella fase centrale del primo tempo Siamo ancora a 0, 0 Fallo segnare Tanti gaspil Ah, ci ha pure attacca Su Per un delinculo Poi lì giù Se un pochettino Non fallosino, amico mio Tutta la squadra su Pasquariello Va bene Tanto ormai tutti sapete Contro chi cazzo state giocando Ok, guarda Di nuovo il fallo ha fatto Avete visto, ragazzo Lui lo sa che Konami Non glieli fa fischiare Ste punizioni Complimenti Quando sapete I baghettini dei falli Complimenti Complimenti La sportività di questi avversari Come sempre Buona lazione sulla destra Vediamo come evolve Vabbè, dai Andiamo avanti così È vero che c'è una bella netta differenza Con il cavo, ragazzi Come sto notando Cheat prendo gol Quello glielo da lui E quello glielo da lui Per forza Madonna Mi come sempre Prevedì, ragazza Grossa Non grossi Non gli ho fatto grossare Pentling Cosa è questo lag Cos'è questo laghettino Qua Fratello caro Eh E ne sono fuori gioco Del sin Che cosa Che cosa fischiamo Madonna Non ce la faccio più Guarda quello Come non fa passare Guarda È andato già tre quarti Di coglioni Guarda io Molto ve lo dico Bello D'amicizia proprio Niente Van Dica a quello Prima stava avanti Va benissimo L'intenzione era molto buona L'esecuzione un po' meno Ecco Bergkamp Palla filtrata per Messi Bell'intervento di consiglio Tolla avanti Coglio Dai Baffa lo scemo con me Forza Oh Mamma mia Bravo Bravo Lione Lione Questa volta Non voglio mai per attaccare giù Virò del cazzo Non mi fare il lancio Non mi fare il lancio Ha fatto il lancio E te lo faccio io Ti faccio vedere come si fa il lancio Pallone lungo Virgil Van Dijk Legge bene l'azione Blocca il pallone Cristiano Ronaldo Pallone intercettato tempestivamente L'azione poteva diventare davvero pericolosa Raffaele Varane Di forza Che cosa è sta Non fischia niente Non fischi niente Sei una malata di gioco Sei Sei una Sicuro Ma io posso che sta a farla Io posso che sta a farla Ma allora Mamma mia Col cavo Che sta facendo lui Che sta facendo lui Che palle sto fatto Che non puoi spostare il giocatore Stai in pausa Ma non fa niente Non aveva fatto neanche un campo Presumo Si parte per la seconda frazione di gioco Si trovano a dover amministrare Vabbè Io Devo andare a regalare Calcio di inizio regalo Sempre la palla Questa è l'una a uno Fidatele Fidatevi Vabbè 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 Cristiano Ronaldo Palla di nuovo verso il centro Scodella in avanti Berkamp Ma non a lui Bolucci Pallone lungo In verticale Chiudi E non ti fa saltare Così da quella Ebbete rincoglionito Rincoglionito Vecchio Che non è altro Vai Gli ho visti Gli ho visti Non l'ho fermi a messi Non l'ho fermi a messi No vabbè No vabbè R2 Gli ho messo L'R2 Ragazzi L'R2 Con messi Tiro a giro Poi andiamo a vedere Quante Scusa Andiamo a vedere Marchingos Marconi 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 Vabbè Cristiano Ronaldo Intervento al limite Ma mi è sembrato regolare Pazio che sta giocando con l'ultimo arrivato Poi lo vedi con Berkamp Vabbè 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 Per fare un gol simile ci vuole tecnica e velocità di pensiero. Veramente fantastico. Messico Beckham, tira a giro. Tiro a giro. Beh, 93, non è maluccio, eh. Non è maluccio, ragazzi. Vabbè, vai, che ci la mettiamo. Cazzo, ci la mettiamo a fare. Adesso si, tocca giù. Se dovessi fare il terzo, passiamo schema dell'amico Kunane. Se dovessi fare il terzo a zero. Ma dubito. Perché Beckham è un globale che scende avanti. Non so il motivo, però. Guardate. Che cosa è sta cosa? Che sta succedendo? Che cosa è sto sminchiamento globale? Che, che, che... No, ma volevo rivedere. Fratello, fammelo rivedere, raga. Che cosa è sto sminchiamento. Una donna. Annaggia la multa di Conan. Di 6 serve come sarà intasati tra stasera e domani. Madonna, Madonna. Passaggio sulla destra. Ecco Beckham. Quando arrirete. E' fuori gioco. Magnesto, come era una sminchiata. Magnesto, un giocatore più forte del mondo. Ha vinto di tutto, ha vinto. Ha vinto di tutto. Ha vinto di tutto. Salta, Ronal. Salta! Vai, Lionel. Vai, che Ronalde scatta. Guardate, con l'ingiore. La sua palla interrompe l'azione. Ha spaventato la difesa, sì, ma non si può. Vai, Van Dijk. Vai che lo fai il lancio a questo. Scusate. Tu guardi giudì. Mi sono fatto due penners con il pezzo. Ok. Ti ho visto, ti ho visto. 10 centrali, ma non ha avuto fortuna. Tacitua. L'avevo visto. Lo ha già in moto, ragazzi. Vabbè. Il portiere ha risposto presente quando c'era bisogno di lui. Intervento pregevole. Va di testa. Fuori di poco sfortunati qui. Ha provato, ma niente di fatto. Non si darà per il dito, Fabio. Ci riproverà. Non quello, no. Si sarà reso già lui. Non l'ho visto la sua votazione, è chiaro, ragazzi. Non pensiate a male. Non pensiate a male. Si. Vabbè. La palla viene rigiocata verso l'interno. Messi. Ancora fa queste cose. Ancora fa queste cose con noi di me. Boh, non lo so. Che così si fa. Virgil Van Dijk. Prova a prolungare. Io poi faccio il lancio a Messi che non è neanche scatto. Vabbè. Non devo prendere gol. Non devo prendere gol. Non devo prendere gol. Ok. Madonna mia. Guardate, raga, non fischio un falo, raga. Non mi fischia niente, raga. Non mi fischia niente. Ancora fa queste giocate contro di me. Non mi fischia niente. Niente, ragazzi. A lui fa 3.000 fuorigiochi. Non gli fischia un cazzo a questo. No. un po' mettiamo cante ok td, mediano, p, va bene così così cresce un po' la femenialità l'amico Kunane vediamo se hai mezzo di scalone vedo che le sp sono più vicine un fallo finalmente, che gli ha dato una mega gomitata una mega gomitata sa fare pure le gomitate io ci provo raga eh non l'ho fatto no raga, no ho sbagliato io no l'ammetto bisogna ammettere il proprio errore ogni volta vabbè modric ovviamente qua lo spirito di squadra scende quindi potrei avere difficoltà chiudiamo raddoppiamo 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 ok tu dagliela a lui e tu dagliela a lui no diciamo che era Beckham a Beckham come si chiama grande van de Kovaran è davvero una bella serie di passaggi questa ma com'è che questa raga l'ho messa leggermente percorso c'è sempre meno spazio bisogna essere precisi e veloci nel passaggio ma l'ha fatto il passaggio è situato ha situato ma gliel'ha fatto si spegne la luce per gli avversari no troppo solo cosa possiamo aggiungere in soltezza easy easy come dice i bonboni il buon Chris up easy easy troppo larghe poste in fase di frenzio vediamo in fase da start se si stringo è sceso ok vedi che quello sta perfetto pallonettino coglionino che non sono io ma il Matti l'era i due va bene perfetto tacci tu hai di tu nonno quello lo vedi un po' libero e ora vediamo se riusciranno ad approfittare di questo corner bell'intervento del portiere tiro da qua prova a tirare al volo vabbè il portiere blocca sicuro eh il civolato è andato vediamo lo faccio pure io ecco Griezmann non voglio prendere il gol vai la gioca all'indietro buah bah buh 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 Easy, 95, 96, 97, 98, fai fare la 90, fino a centro, arriva il tempo, Yalamurt Konami, easy, easy, vediamo quant'era lui, sto aspettando, sto aspettando il cazzo, mi è arrivato il messaggio. Arrivo, ok ragazzi, devo chiudere, devo andare a fare il servizio che avevo detto, ragazzi, grazie, seguitemi, vi voglio bene, non ho visto lui neanche quanto cazzo era, taccimia, c'ho da fare, testa di cazzo che ne sono altro, e ci vediamo domani ragazzi. Vi voglio bene, lo sapete, au revoir, grazie, grazie, grazie.